Il lavoro che non c'è, il dramma dei giovani cilentani. I piccoli paesi si spopolano, i ragazzi lasciano il cilento in cerca di fortuna altrove. Ad ascoltare i giovani del territorio è il vescovo della diocese di Vallo della Lucania, Ciro Miniero. Nei giorni scorsi ha incontrato una delegazione di ragazzi presso la cappella del seminario diocesano. Un secondo incontro è previsto a Santa Maria di Castellabate. Il vescovo ha ascoltato i ragazzi e attraverso i nostri microfoni si rivolge agli amministratori del territorio. Sì, è un momento bello perché incontrare i ragazzi giovani significa mettersi continuamente dinanzi a persone che stanno progettando il proprio futuro e si stanno diciamo in qualche modo rodando per poter poi fare le proprie scelte. Questi sono momenti belli di riflessione e di preghiera che facciamo insieme come oramai già da diversi anni. Essere giovani nel nostro territorio non sempre è facile. Si cresce sicuramente in un ambiente sano, quasi sano, però poi davanti ai ragazzi c'è questo grande punto interrogativo, l'incertezza del futuro. È questo che rende veramente instabile la situazione del giovane nella vita, nella famiglia particolarmente e tante problematiche nascono proprio dall'incertezza del futuro. Ma non bisogna demordere, innanzitutto bisogna stare vicino ai giovani, ascoltarli e poi loro facendo guardare sempre con speranza il futuro. Lei è sicuramente a modo di ascoltarli anche in altre occasioni. Quali sono le problematiche principali che le esternano i ragazzi anche attraverso la presenza di tanti parroci giovani sul territorio diocesano? È proprio questo il disorientamento per il futuro perché soprattutto nella nostra diocesi in fondo si vedono già proiettati altrove e questo li rende anche un poco non troppo se la tagliamo. Ecco, sicuramente non solo in questo incontro ma anche in altri momenti lei è in modo di ascoltare i ragazzi anche attraverso la presenza dei tanti parroci giovani. Quali sono le problematiche che le esternano principali? E' proprio quella lì che sentono di più la mancanza di futuro qui nel nostro territorio e li rende anche un poco insicuri e anche sembra apparentemente non troppo legati perché costretti in qualche modo a pensarsi altrove per potersi realizzare. Questo veramente credo che sia uno dei grossi problemi non solo del nostro Scilento ma del Sud Italia in genere. La Chiesa c'è, la sua presenza c'è, abbiamo il mondo della scuola, un passo in più forse dovrebbero farlo gli amministratori di questo territorio? Certo, non solo gli amministratori del nostro territorio ma anche a livello di politiche nazionali perché oggi sappiamo quanto è difficile creare lavoro anche per l'evoluzione che ha avuto la stessa dimensione sociale con i computer, con i mezzi di comunicazione e l'utilizzo delle macchine nel mondo del lavoro. Internet ha creato ulteriori sacche di disagio perché molto lavoro viene espletato attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso internet e bisogna calarsi in questa realtà e credo che gli amministratori qui debbano fare pienamente la loro parte ma soprattutto a livello nazionale, internazionale e chiaramente poi la ricaduta qui nel nostro territorio.